La provincia di Campobasso cerca di fare cassa e prosegue col piano di alienazione dei beni immobili avviato con la vendita della caserma dell'arma dei carabinieri di Via Mazzini e del Palazzo della Prefettura. Un sistema ritenuto necessario, vista l'esiguità dei fondi a disposizione di un ente sempre in rosso dopo la riforma della legge del Rio. L'ultimo avviso bandito prevede la cessione all'asta del circolo sannitico dei locali adiacenti che un tempo ospitavano la sede della Croce Rossa Femminile e dell'attuale sede del Centro per l'Impiego in Piazza Molise, il tutto per un valore complessivo di un milione e mezzo di euro. A fare scalpore è stata soprattutto la decisione di disfarsi dell'immobile di Piazza Pepe, presente con una base d'asta di 245 mila euro e immediatamente c'è stata la presa di posizione del PD e della sinistra. Il Comune e la Regione Molise, ha detto l'ex sindaco Battista in Commissione Bilancio e Patrimonio, che hanno ottenuto le funzioni sottratte alle province, si adoperino per l'acquisto dei locali del circolo affinché gli stessi restino di uso pubblico e destinati a finalità culturali. Sul caso è intervenuto anche la Lega, che sostanzialmente rivolge lo stesso appello all'amministrazione, tirando in ballo però anche la Regione. I consiglieri comunali, tra Montano Pascale e D'Alessandro, hanno chiesto al sindaco di Campobasso Gravina di mettere in campo tutte le azioni possibili, politiche e amministrative, al fine di evitare che i locali del circolo sannetico vengano destinati a usi privati. È stato chiesto inoltre il coinvolgimento del Consiglio e Pascale, anche in qualità di consigliere provinciale, si farà portavoce presso la Regione, qualora ci sarà un diniego da parte del Comune di Campobasso. Si vuole evitare, si legge nella nota della Lega, che un palazzo storico della città, in cui si possono lanciare iniziative legate anche al turismo e alla cultura, possa uscire dalle competenze degli enti pubblici a vantaggio di qualche privato.